Leon Battista Alberti. Oggi parleremo di questo grande artista e umanista, aiutati anche dalle slide realizzate da una studentessa probabilmente di classe quarta liceo nel lontano 2004-2005. Chi è Leon Battista Alberti? Nasce a Genova il 18 febbraio del 1404 da una ricca famiglia fiorentina in esilio. Inizia i suoi studi a Padova, in seguito si trasferisce a Bologna dove prende la laurea in diritto canonico nel 1428. Ancora nel 400 senza altro, ma lo sappiamo con Parini e tanti altri fino al 700, gli intellettuali anche per potersi sostenere spesso intraprendevano una carriera ecclesiastica. In seguito alla morte del padre si trova in ristrettezze economiche che lo spingono a intraprendere appunto la carriera ecclesiastica. Nel 1432 si reca a Roma e prende gli ordini minori. Tra il 1438 e il 1439 risiede a Firenze, quindi lui che era fiorentino diciamo di origine e non di nascita, può finalmente ritornare in quella che era stata la città della sua famiglia di origine. A seguito della Curia, perché abbiamo detto che è un ecclesiastico, per partecipare al concilio dei greci, ecco una cosa interessantissima che avvenne appunto in quel 400, l'apertura di Firenze in modo particolare, ma anche diciamo in generale dell'umanesimo, ecco, nei confronti della lingua greca, lo studio della lingua greca e poi anche ovviamente del tentativo di riappacificarsi con gli ortodossi dal punto di vista religioso. Infatti questo concilio dei greci avrebbe dovuto stabilire la riunificazione della chiesa d'occidente con quella d'oriente. Purtroppo poi però le cose non andarono come sperato. Questo periodo è molto importante per la sua formazione artistica, in quanto a modo di frequentare artisti come Donatello e poi Filippo Brunelleschi, ne parleremo abbondantemente. Nel 1443 torna definitivamente a Roma dove muore nell'aprile del 1472. Ma quello che farà in questi anni, ecco, poi lo spiegheremo in maniera più dettagliata parlando delle sue opere. Noi dobbiamo dire però una cosa importantissima che Alberti è, Leon Battista Alberti, è uno degli umanisti veramente, come dire, modello, ecco, paradigma di umanista. Perché nello stesso tempo è profondo conoscitore delle opere classiche, poi sostenitore però dell'esperienza acquisita non solo sui libri, ma anche con la frequentazione degli uomini, della società. Ecco, attenzione anche agli aspetti per migliorare la vita umana, sia morali, sia pratici. E poi soprattutto rappresentante del nuovo intellettuale laico e del nuovo uomo rinascimentale che, desideroso di godersi la vita, considera la religione non più come una continua rinuncia e ascesi mistica, ma come l'arte del benvivere, citazione sua, umanamente vivere questa vita che è pur dono di Dio, in questo mondo che è pur tempio di Dio. E quindi, ovviamente, adesso lo vedremo soprattutto, eccolo qua, ecco la slide che aspettavo, soprattutto uno che è stato in grado di coniugare la cultura scientifica e quella umanistica. Quando parliamo e vediamo, non so, le mostre su Leonardo e scopriamo con grande ammirazione che, oltre ad essere pittore e quindi artista, era anche un importantissimo scrittore, pensate al Codice Atlantico, era un grande ingegnere sia nel campo civile sia nel campo militare, e ci stupiamo di questo e pensiamo magari che sia l'unico. Non teniamo ben conto del fatto che ci troviamo in un periodo, quello della fine dell'umanesimo e dell'inizio del Rinascimento, in cui era quasi normale che un intellettuale fosse competente sia nel campo umanistico-artistico sia nel campo scientifico, ma del resto lo sappiamo, questo anche nel Medioevo, sappiamo per esempio che Dante aveva queste competenze scientifiche, che andava nelle università a trattare della terra e delle acque, a tenere lezioni universitarie, quindi di scienze. E' un vero e proprio uomo universale, Leon Battista Alberti, come Leonardo, certo poi Leonardo per carità è un genio, però anche Leon Battista Alberti sicuramente è uno che si è fatto valere in svariati campi, con più studi letterari, ma anche matematici e scientifici durante il periodo padovano, che gli permisero di farsi portatore delle due culture, sia di quella umanistica sia di quella scientifica. Rivolse i suoi interessi a tutti i campi del sapere del tempo, acquistando una conoscenza veramente enciclopedica. Fu infatti architetto, pittore, ci aggiungiamo anche scultore, quindi tutte le arti, poi letterato, filosofo, musico, fisico, anche Leonardo da Vinci era musico, sapete che Ludovico del Moro l'aveva chiamato anche per allietare proprio le feste del Ducato di Milano con le sue composizioni musicali. Poi fisico, chimico, pedagogo e matematico, ecco perché dicevamo che la figura di Leon Battista Alberti anticipa quella che poi sarà la figura di Leonardo. Leggiamo un brano tratto dal testamento di Leon Battista Alberti che ci testimonia come lui ci tenesse alla cultura, ci tenesse alla diffusione, a lasciare un'eredità che permettesse ai giovani di dedicarsi alla scienza, di dedicarsi all'arte. Cioè lui dice io faccio il mio testamento e ovviamente do anche i miei beni ai miei parenti, ma nel caso in cui nella parentiera nessuno si trovasse in grado di profittare dell'ascito, dispongo di designare ad usufruirne due scolari poveri già iscritti alle lezioni dello studio bolognese, dell'università bolognese, qualunque sia la loro origine. Per godere di questa liberalità, cioè di questa generosità, di questo lascito testamentario, di questa eredità, i prescelti, questi due giovani poveri studenti debbono laurearsi in una qualsiasi delle discipline insegnate in quell'Ateneo a Bologna, dove io stesso, giovane studente, conobbi la difficoltà di chi si trova ad affrontare gli studi nelle ristrettezze economiche. Ricordate che abbiamo parlato di problemi economici nella prima fase della vita di Leon Battista Alberti. Per l'infinito amore che mi lega all'architettura, alla quale dedicai il fiore dei miei studi, dispongo che venga messa a carico dell'eredità, senza limite di spesa, la somma necessaria a completare i lavori, già avviati sul mio progetto, nella pieve di Gargalandi, presso Firenze, della quale sono stato rettore per lunghi anni. Investo il mio stimato cugino ed erede universale, Bernardo Antonio Alberti, del compito di fare imprimere a stampa l'opera mia più reputata, frutto delle mie amate speculazioni architettoniche, il trattato de re edificatoria, pubblicato quindi postumo. Affido alle sue cure perché rimanga nella biblioteca di famiglia il manoscritto mio più prezioso, la Historia Naturalis di Plinio, e voi sapete bene come gli umanisti da Petrarca in poi fossero molto legati all'antichità, a Roma, alla Grecia e ai manoscritti che conservavano gelosamente. Ecco quindi che lui spazia in tanti campi, scrive libri importantissimi sulle arti figurative e di pittura, sull'architettura, l'ha già detto anche lui nel testamento, il de re edificatoria, sulla statuaria, de statua, la descripzio urbis Rome, ecco adesso veramente vi lascio poi leggere le slide se volete con molta più attenzione, però a me piace molto questa descripzione urbis Rome, perché la testimonianza di come lui segue quel modello lì, il modello è quello della bellezza dell'armonia classica, lui lo chiama proporzionamento, allora non si diceva proporzione, il proporzionamento degli edifici romani alla base della progettazione architettonica. E' questo ovviamente, poi quando vediamo il Tempio Malatestiano e tante altre architetture progettate da Leon Battista Alberti capiamo più, di più, capiamo meglio come mai appunto abbia intrapreso quella strada. Vi ho detto che era anche un grande matematico, per esempio scrisse un opuscolo intitolato Ludi Rerum Mathematicarum, giochi matematici insomma, prima del 1452, che dedicò a uno degli estensi. Ecco, l'umanesimo, come dire, è molto importante perché c'era stata una rivalutazione e un riutilizzo del latino, però proprio verso la fine dell'umanesimo, nell'epoca insomma che noi adesso stiamo affrontando con Leon Battista Alberti. Pensate ovviamente poi qualche decennio dopo a Lorenzo dei Medici, il Poliziano, San Nazaro, eccetera, Pulci, Boiardo, si torna anche a utilizzare il volgare. All'inizio c'è una netta distinzione, il latino doveva essere dedicato alla cultura, per usi letterari per esempio. Il volgare ha le scritture della vita pratica, come lettere personali, libri di famiglia cronache e contratti. Ecco, Leon Battista Alberti già rompe un po' questi schemi perché, come vedremo, scriverà il depictura sia in latino sia in volgare. Leon Battista Alberti, appunto, come vi stavo spiegando, prevedeva invece per il volgare un uso simile a quello del latino nell'antichità. Scrisse a questo proposito la grammatica del Toscano. Quindi, insomma, ricorderete il trattato de vulgaria eloquenzia di Dante e tantissimi altri, diciamo, scritti anche di Petrarca, di Boccaccio su questo argomento. Ma proprio questa grammatica del Toscano su base fiorentina, ecco, poi dopo è chiaro, sarà anche una specie di... cioè, getterà le basi per poi quella che sarà la teoria di Pietro Bembo, no? Della lingua del fiorentino toscano letterario alla base della lingua italiana. Ecco, il fiorentino colto dell'epoca. Sulla base di questo scrive una grammatica del Toscano che, appunto, lui ritiene, fanno di questa parlata una vera e propria lingua, non più un dialetto. Gli umanisti spingono per una codificazione scritta del volgare. Il libro di John Battista Alberti, la grammatica del Toscano, è una sorta di primo modello di italiano standard. Ecco, la grammatica, lui la riterrà un'arte, una tecnica della scrittura. E effettivamente, da un punto di vista, diciamo, anche etimologico, grammatiche, originariamente era legato con tecne, quindi con la tecnica, appunto, della scrittura. Ecco qui, per esempio, l'ordine delle lettere, le vocali, le congiunzioni, i verbi, gli articoli, tutti elementi che Leon Battista Alberti codificò in questa grammatica del Toscano. Ogni parola edizione toscana finisce in vocale, le cose in molta altra parte hanno in lingua toscana quei medesimi nomi che il latino, non hanno i toscani fra i nomi altro che masculino e femminino, e neutri latini si fanno masculini. Insomma, nasce la grammatica della nostra lingua, che ha il maschile e il femminile, ad esempio, e non ha il neutro. E poi quali sono gli articoli che precedono, diciamo così, i sostantivi. Qual è l'ortografia corretta? Tutte cose che noi diamo per scontato, ma allora non lo erano per niente. Ecco il Depictura, un trattato sulla pittura scritto, appunto, da Leon Battista Alberti, probabilmente prima in volgare e poi scritto in latino, perché comunque in quel periodo era la lingua delle dissertazioni, dei trattati. Fu la prima opera di una trilogia che poi sarà completata dal De Re Edificatoria e dal De Statua, che riguarda insomma tutte le arti maggiori. Questa opera influenzò tantissimo i pittori che seguirono. Fu tra i testi fondamentali del Rinascimento. Alberti riuscì così a influenzare non solo il Rinascimento italiano, se pensiamo ad artisti come appunto Leonardo e Piero della Francesca, ma in generale la storia della pittura da quel momento in poi. Ecco, come viene composto tra 1434 e 1443? Come è diviso? È diviso in due libri. È composto sul modello classico di Vitruvio, che aveva scritto un testo appunto, se non sbaglio, sull'architettura, comunque sull'arte. Allora, stavamo dicendo quindi che cosa si dice nel primo libro. Ecco, nel primo libro abbiamo i principi della prospettiva, cioè la riduzione, che è obbligatoria, inevitabile nella pittura, a due dimensioni di quella che è una realtà, che è la realtà tridimensionale. È chiaro che in questo campo lui deve un po' qualcosa anche a Brunelleschi, che l'aveva preceduto e che aveva già fatto ovviamente degli studi, che poi aveva anche, diciamo, messo in pratica nella sua opera. Adesso vediamo anche in che modo, in che senso. Mentre nel secondo libro tratta di circoscrizione, composizione e ricevere di lumi. Cioè, insomma, la relazione tra la luce e il colore, c'è una definizione del disegno, la circonscrizione, infatti, era il tracciamento del contorno dei corpi, poi c'era la composizione, il tracciamento delle linee che uniscono i contorni dei corpi, cioè la composizione della scena pictorica, scusate, pittorica, mi sono lasciato prendere dal depictura. E infine la recepzio luminum, cioè i rapporti tra i colori e la luce. Questo è il frontespizio del depictura, in un'edizione successiva di circa un secolo dopo. Ecco, in questo testo viene esposta la teoria, ritorniamo al primo libro, della costruzione abbreviata, cioè la suddivisione dello spazio in tanti quadrati, per ciascuno dei quali si tracciano linee immaginarie che uniscono i singoli punti del quadrato al punto di vista, situato ad altezza Duomo, fuori del quadro. Prolungando tali linee e intersecandole con un piano quadrettato anch'esso, si ottiene la proiezione nello spazio di un qualunque oggetto. Lo possiamo vedere questo esemplificato in una incisione di Albrecht Dürer, insomma, che sappiamo era di qualche decennio dopo. Possiamo intravedere questo procedimento anche negli affreschi, per esempio, di Masaccio. Qui vediamo la trinità di Masaccio e la ricostruzione dello spazio architettonico di come si è riuscito Masaccio a rendere in due dimensioni una realtà tridimensionale, la profondità. E lo possiamo vedere anche però in dipinti, in quadri che lo stesso Leon Battista Alberti realizzò in quegli anni, come la Natività della Vergine del 1443 e la rappresentazione della Vergine al Tempio. Insomma, non solo ha scritto il Depittura, ma poi ha concretizzato queste idee in dipinti su tavola. Come abbiamo detto, era stato Filippo Brunelleschi qualche decennio prima che aveva individuato quello che era la vista prospettica, anche attraverso dei procedimenti ottici, artigianali, chiamiamoli così. Bene, passiamo adesso al De Re Edificatoria. L'opera fu composta intorno al 1452, ma come sappiamo poi è stata pubblicata a postuma. Il trattato è diviso in dieci libri, è composto sul modello classico di Vitruvio. Infatti vi ho detto prima che Vitruvio aveva scritto proprio un De Architettura. Vi si discorre del disegno, dei materiali di costruzione, dei procedimenti costruttivi, dell'organizzazione della città e delle acque, dell'ordinamento degli ordini architettonici. In relazione a quest'ultimo argomento, Alberti afferma le sue idee differenti da Brunelleschi, affermando che la colonna debba essere sovrastata dalla trabiazione, mentre l'arco deve essere costruito al di sopra dei pilastri. Infine, vengono trattate per la prima volta le cause delle rotture dei muri e le opere di prevenzione e di restauro degli edifici. Di fondamentale importanza per Alberti sono i canoni di armonia, bellezza e proporzione, per i quali egli si rifà ai principi pitagorico-platonici inerenti all'ordine della natura. Ecco, questo trattato non è rivolto solo a un pubblico specialistico, quindi gli architetti, ma anche in generale agli umanisti, cioè agli intellettuali, agli uomini colti dell'epoca. È una specie di tentativo di rileggere criticamente Vitruvio, quindi il trattato latino sull'architettura, e nello stesso tempo però realizzare il primo trattato moderno di teoria dell'architettura sulla costruzione degli edifici e anche su tanti aspetti pratici, per esempio gli ornamenti. Sono citati anche autori della Grecia classica, tra cui Aristotele e Platone, quindi filosofi che si sono occupati, diciamo, tangenzialmente di architettura, per inquadrare anche sociologicamente queste arti. Come abbiamo spiegato, il De Re di Fiocatoria non fu stampato quando era ancora vivo Alberti, perché anche se lui aveva tentato più volte di far stampare i suoi libri, quest'opera non fu stampata. Erano i primi anni o decenni della storia della stampa. In realtà, oltre al suo cugino, il suo erede, ci fu l'interessamento diretto di Lorenzo il Magnifico e del Poliziano per la pubblicazione di quest'opera. Ecco, è chiaro ed evidente che in quest'opera viene rappresentato quello che è il modello dell'architettura, delle costruzioni, delle opere pubbliche e delle opere private e quindi in generale della città rinascimentale. Anche questo, ovviamente, sono degli spunti che poi saranno sviluppati nei decenni seguenti. Quali sono state poi le grandi opere di Leon Battista Alberti? Beh, anzitutto dobbiamo dire questo, che lui progettava, disegnava, no? Ma non era un architetto che poi lavorava sul campo, diciamo. Infatti, per lui era più importante l'aspetto teorico e quindi affidava sempre ad altri la direzione dei suoi lavori, che però sono dei capolavori straordinari, ecco, che ci sono rimasti alcuni purtroppo un po' rimaneggiati, insomma, un po' risentono del tempo passato, però si può intravedere sicuramente la grandezza e anche, se vogliamo, lo spirito della genesi di queste opere. Anzitutto, probabilmente il suo capolavoro, il Tempio Malatestiano. C'era già una chiesa gotica lì, a San Francesco, che era dedicata a San Francesco, lì a Rimini. Questa chiesa viene totalmente rivista, ridisegnata. E' intorno al 1450 che lui fa il progetto, soprattutto dell'esterno, ma anche di parte dell'interno. Purtroppo, però, poi il signor Sigismondo Malatesta non ebbe vicende, diciamo, storico-militari, politiche molto favorevoli e quindi questo progetto non fu portato a compimento. E qui abbiamo, comunque, in una medaglia, possiamo ricostruire il disegno originario di quello che doveva essere il Tempio Malatestiano se, per esempio, si fosse costruito quell'arco, insomma, sulla facciata del Tempio. Doveva essere coronata questa facciata, da questo fastigio nella porzione centrale. Si chiama così, no? Poi la grande cupola semisferica, a somiglianza di quella del Panteon, eccetera. Però, purtroppo, questo esterno non è stato realizzato poi totalmente come progettato da Leon Battista Alberti. Internamente la chiesa è costituita da un'unica navata affiancata da cappelle. è chiaro che abbiamo detto che viene costruita su un impianto di una chiesa precedente gotica e Leon Battista Alberti, al quale evidentemente non piaceva questo tipo di architettura medievale, aveva cercato quanto più possibile di incapsulare, quindi di coprire, ecco, questa, come dire, questo tipo di architettura, con un'architettura nuova, completamente moderna e di stile classico, insomma, no? Eccolo qua, ancora il Tempio Malatestiano, come si presenta a noi, la facciata, la parte laterale, il portale, gli ornamenti, per esempio della base della semicolonna a fianco al portale. Passiamo adesso a parlare di Palazzo Ruccellai, quindi siamo a Firenze, Orti Ruccellai, insomma, siamo proprio nel centro di Firenze, stiamo parlando di una famiglia tra i più importanti, influenti e anche colte, della città di Firenze. Il progetto presenta un fronte di cinque campate, poi esteso a sette in seguito ad ampiamenti. Si distingue da altri palazzi fiorentini, quattrocenteschi, per l'assimilazione di certe caratteristiche architettoniche romane, sia all'esterno sia all'interno, i tre ordini di pilastri, per esempio. Ecco qui un'altra visione della facciata, chiamiamola così, del Palazzo Ruccellai, le colonne del piano inferiore, in stile gotico, scusate, ho sbagliato, volevo dire in stile dorico, in aggetto, ovviamente, no? E questa invece è una colonna in stile misto, perché vediamo anche, mi sembra, oltre, diciamo, quel triangolo, tra virgolette, che più o meno richiama il dorico con le volute, intravediamo anche delle foglie di acanto di stile corinzio. Queste sono le finestre del secondo piano, del terzo piano, di Palazzo Ruccellai, il cornicione superiore e il particolare del cornicione. Ecco, quindi ho operato a Rimini, ho operato a Firenze e operato a Mantua. Per esempio, a Mantua ha realizzato il progetto, ricordate che lui non guidava mai i lavori, il progetto della chiesa di San Sebastiano, appunto a Mantua, su commissione di Ludovico Gonzaga. I lavori vennero cominciati nel 1460, ma a causa di problemi del terreno non furono mai portati a termine, compiuti totalmente. Però anche qui possiamo intravedere quello che è lo stile, l'impianto classico, ecco, del tempio, possiamo definirlo così. Anche questo, un tempio con gli archi a tutto sesto, quindi che non hanno più nulla, si può dire, di quello che caratterizzava gli archi gotici, acuti. Benissimo. Ecco, lui per questa chiesa progetta una pianta a croce greca preceduta in uno solo dei bracci da un pronao con cinque aperture in facciata, quindi pronao proprio. Siamo proprio in un'architettura che sicuramente ha come modello l'architettura classica e quindi prima dell'ingresso del tempio, il pronao. E questa è un po' la visione sia dell'esterno sia dell'interno di San Sebastiano e questa è la pianta, abbiamo detto, a croce. La pianta descrive un ottagono perfetto, ciò sembra riprendere le prescrizioni di Vitruvio riguardo alla pianta delle città, secondo cui la pianta delle città dovrebbe essere ottagonale, così come sono otto le direzioni dei venti, quindi ritorno. Vitruvio, il modello di Vitruvio, l'architettura di Vitruvio, eccetera. Ritorniamo a Firenze dove lui ha progettato la chiesa della Santissima Annunziata che sorge sul preesistente oratorio dei Servi di Maria, nato intorno a un'immagine miracolosa dell'Annunziata per volontà di sette nobili giovani che qui si diedero a vita monastica rinunciando alla mondanità. Ecco qui ci troviamo un'altra zona bellissima di Firenze, io l'ho vista questa chiesa e siamo, se non sbaglio, proprio vicino tra l'Accademia e il Convento di San Marco, quindi veramente un posto bellissimo. All'Alberti si deve la realizzazione della poderosa tribuna visibile dal lato destro, commissionatagli nel 1455 dal marchese Ludovico Gonzaga. Egli lavora su un disegno preesistente realizzato alcuni anni prima dall'architetto Manetti. Scusate, devo controllare una cosa perché non vorrei aver detto una stupidata. Adesso il testo parla di, come dire, dei Gonzaga. No, 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 la basica della Santissima Annunziata è quella, infatti ho letto l'ospedale, quindi si parla dei Gonzaga, senz'altro, ma non perché si trova lì a Firenze. Benissimo. Poi abbiamo il tempietto del Santo Sepolcro. Nell'ex chiesa di San Pancrazio Alberti progettò per i Ruccellai, ricordate il palazzo Ruccellai di prima, un complesso sepolcrale il cui contenente e contenuto cappella ed edicola del Santo Sepolcro sono legati da precisi rapporti così da risultare due momenti di un solo organismo architettonico. Il tempietto a pianta rettangolare con piccola abside si ispira nelle dimensioni al Santo Sepolcro di Gerusalemme. Eccolo qua, il tempietto del Santo Sepolcro, il rettangolo e, appunto, se voi per caso siete andati a Gerusalemme, magari avrete visto appunto il tempio del Santo Sepolcro. Un grandissimo salutone intanto alla mia amica Pam Tarei, a Mif, a Cioprete, a Flexinste, a Carmelo Polizzi, Ayali Pistritto, Misci Montagna, Mattia Biesse, Crisa, Simone Paoleschi. Mamma, quanti siete qua su Instagram? Siete tantissimi, mi fate veramente molto molto piacere. Ciao amica mia, ciao carissima amica. Bene, bene, bene. Con lei siamo andati a vedere una bellissima città, la città di Budapest. Abside in San Martino. Andiamo adesso invece nei dintorni di Firenze, a La Strassigna, un comune vicino a Firenze, dove Leon Battista Alberti ha progettato l'abside di San Martino, la chiesa a origini romaniche, come quella chiesa, vi ricordate, del Tempio Malatestiano, che aveva origini medievali, ma poi dopo è stata modificata con questi progetti che aveva Leon Battista Alberti. Lui ha progettato l'abside semicircolare, classicamente scandita da sei lesene, che sorreggono una trabiazione con un'elegante iscrizione e l'arme della famiglia Alberti. Eccola qua, questa chiesa, appunto vista dall'esterno, da dietro, si può ammirare benissimo quest'abside progettata da Leon Battista Alberti. Ho un grandissimo capolavoro che possiamo ammirare appena arriviamo a Firenze, usciti dalla stazione, di fronte alla stazione di Firenze, e vi trovate subito questo capolavoro dell'arte, che è la Basilica di Santa Maria Novella, commissionata a Leon Battista Alberti intorno al 1458 dal Rucellai. Anche in questo caso c'era una parziale realizzazione trecentesca, nel senso che c'erano già portali laterali, profondi archi acuti con le tombe gotiche, le arcate cieche, eccetera. Poi però il nuovo, il nuovo che chiaramente dal punto di vista di Leon Battista Alberti, diciamo che ha un sentore di greco e romano, come ben sappiamo. Lui riuscì però bene, stavolta, ad armonizzare il vecchio col nuovo, non come aveva fatto magari anche nel Tempio Malatestiano, dove aveva cercato semplicemente di coprire il vecchio, cioè di coprire il medievale con la sua architettura rinascimentare. No, invece qua si è creata una specie di armonia tra stili diversi. Ecco gli elementi sui quali lui è intervenuto, ecco, se osserviamo soprattutto la facciata, quindi il timpano, le volute, ecco che proprio rimandano a questa architettura classica. Questa è la planimetria di Santa Maria Novella, croce latina suddivisa in tre navate. Gli schemi proporzionali, ecco questa è una cosa molto importante. Noi abbiamo in mente, per esempio, Leonardo, l'uomo vitruviano, appunto, e quindi i canoni della bellezza classica. Ebbene, Leon Battista Alberti applica questi canoni della bellezza classica all'architettura. Infatti, se osserviamo con attenzione la facciata di Santa Maria Novella, possiamo notare una specie di armonia, quasi sezione aurea, abbiamo detto, nel senso che Alberti divide l'intero spazio della facciata in modo tale che l'altezza dell'edificio è pari alla larghezza, quindi in un quadrato. Tutto è scritto in un quadrato. La parte inferiore, a sua volta, è divisa in due dal portale e forma altri due quadrati, ciascuno dei quali ha una superficie pari a un quarto di quella del quadrato generale. Se osserviamo con attenzione invece il piano superiore, vediamo che è sormontato, come già detto prima, da un timpano, quel triangolo, no? Classico. E ha esattamente le stesse misure dei due quadrati della parte inferiore. Il quadrato che delimita la porzione superiore separato dalla mediana corrisponde al rettangolo delimitante il portale. Inoltre il diametro del rosone è pari alla metà del lato del quadrato stesso. Quindi studi anche matematici per rendere questa armonia, questa infezione, diciamo, di forme che non hanno nulla, tra virgolette, di rettangolare o di acuto o di, insomma, che è invece tutto in proporzioni uguali, no? Annessi alla chiesa si trovano gli edifici del convento, con tre chiostri monumentali, il Chiostrino dei Morti, il Chiostro Grande e il Chiostro Verde. Il Chiostro Verde, costruito dopo il 1350 con gli affreschi di Paolo Uccello, ecco, con storia della genesi di Paolo Uccello e la sua cerchia e di altri artisti sul lato occidentale, storia di Giacobbe. Ecco, come a dire quindi che effettivamente, a dire la verità, c'è un complesso. Se voi avete visto Santa Maria Novella, non avete visto semplicemente una chiesa, ma un vero e proprio complesso architettonico, comprensivo, appunto, anche di questi chiostri bellissimi. Questo è l'interno della chiesa, la struttura della navata centrale e poi la porzione superiore con l'ingrandimento della voluta, quindi di questa decorazione tipicamente classica. È la porzione superiore con al centro il rosone, con quelle proporzioni di cui abbiamo parlato prima. Il portale centrale, il particolare del portale centrale, l'arco del portale introduce una breve volta a botte, cassettonata, che poggia su superfici murali scandita da coppie di lesene corinzie, scanalate, a imitazione proprio dell'ingresso del Panteon di Roma. Ecco il portale laterale, a sesto acuto, con tombe gotiche e il particolare che probabilmente testimonia di come, abbiamo già detto, c'erano già parti della chiesa costruite prima di Leon Battista Alberti con un impianto, quindi un'architettura completamente diversa, quindi gotica. Sant'Andrea a Mantua. Alberti realizza il progetto per la chiesa di Sant'Andrea nel 1470, quindi due anni prima della morte, su commissione di Ludovico Gonzaga. Anche qua possiamo notare il Pronao, coperto da un sistema di volte a botte, scusate, cassettonate, come abbiamo visto in dimensioni però molto più limitate, il portale di Santa Maria Novella a Firenze. La pianta della chiesa longitudinale con transetto, interno unica, navata e grande volta a botte. Queste volte a botte, cassettonate, non hanno nulla a che vedere con le volte ad esempio a crociera, così frequenti nel Medioevo. Questa è la chiesa di Sant'Andrea con la piazza prospicente, il Pronao con le volte a botte cassettonate di cui abbiamo parlato prima, la navata interna con le arcate laterali di fronte l'apertura di una delle tre cupole e la volta a botte che copre l'aula centrale, cioè penso proprio... ah sì, l'aula centrale. Penso che sia appunto la zona anche, diciamo, del presbiterio. Presbiterio sarebbe la zona in cui viene poi ufficiato il rito. Il De Statua. Allora, il De Statua fu scritto dopo il De Re edificatoria, ma fu pubblicato prima. È un trattato in lingua latina in cui Alberti definisce le misure proporzionali del corpo umano, utilizzando il Finitorium, o definitor, uno strumento inventato da lui, simile all'orizzonte graduato, costituito da un disco da porre sul capo con un regolo sporgente e un filo a piombo appeso, per fornire allo scultore i punti di riferimento di un ideale cilindro da cui ricavare la statua. La statua quindi può rappresentare anche un movimento, diciamo così, dell'uomo o della donna raffigurata. Però c'è un punto di partenza che è questo cilindro, queste proporzioni, un canone che lui poi applica e fa applicare perché fece anche delle sculture. Questo per esempio, vabbè, è un bronzo fuso da un modello di cera, una specie di autoritratto che fece di se stesso. Leone Battista Alberti. Ma questo è proprio la statua con la quale terminiamo la nostra spiegazione di oggi. Ed è famosa, io me la ricordo, quando si fa la fila per entrare alla Galleria degli Uffizi a Firenze. è bellissimo perché uno può ammirare, mentre sta facendo questa fila, può già ammirare delle opere d'arte straordinarie. È una serie di statue. Una di queste, proprio, è la statua che è un autoritratto a tre dimensioni di Leone Battista Alberti, in cui anche, in questo caso, diciamo, mette in pratica quelli che erano tutti, quelli che erano stati, insomma, i suggerimenti che lui aveva messo per iscritto in questa opera della De Statua. Diciamo che ha avuto un po' meno fortuna rispetto al De Pictura e al De Re Edificatoria. Poi, però, recentemente è stato messo in luce come questo trattato sia stato importantissimo per il Rinascimento e Alberti è stato uno degli iniziatori della raffigurazione scientifica della figura umana, uno dei temi che percorre la cultura figurativa rinascimentale. Appunto, vi ricordate, l'uomo vittoriano.